Un pellegrinaggio lungo strade, campagne, insidiamenti rupestri destinati ad essere cancellati in nome di una strada, la 275, la maglia e Santa Maria di Leuca al centro di un dibattito annoso sul suo progetto di ammodernamento dal costo di quasi 300 milioni incapaci di coniugare la necessità di preservare la sicurezza stradale e le ragioni ambientaliste. Una camminata di due giorni per percorrere da Castiglione a Santa Maria di Leuca durante il fine settimana il tracciato indicato dal nuovo progetto e dimostrarne così l'invasività. Lei risiede qui vicino? Sì, sì, sì. Probabilmente da azienda agrituristica, azienda agricola e masseria didattica forse tra tre o quattro anni ci trasformeremo in autogrill. Questa progettazione nasce partorita da uno studio di progettazione che non ha vinto una gara pubblica, è partorita da uno studio che non aveva le competenze specialistiche in materia geologica, geoidrologica, archeologica, paesaggistica per poter espletare questo incarico. Un'opposizione civica come nuovi pellegrini, devoti e difensori della bellezza incontaminata del Finibus Terre. Gli unici scorci ancora liberi da giamento e asfalto in questo modo verrebbero completamente eliminati senza nessuna logica perché questa è una strada che nasce per asservire le zone industriali nel 94 quando c'era un'altra economia. Adesso l'economia come avete visto tutti è il turismo nel Salento.